Al via il voucher, scelta sociale, la misura voluta dalla Regione Piemonte che permette di ottenere 600 euro per due anni per i progetti di domiciliarità o in strutture per persone non autosufficienti. Possono essere utilizzati per pagare le rette delle strutture o le persone che si prendono cura di anziani, persone con disabilità. Il tutto è stato finanziato con 90 milioni di euro arrivati dal Fondo Sociale Europeo. Per iscriversi occorre andare sul sito della Regione Piemonte e fare richiesta utilizzando lo SPID per farlo se avrà tempo fino alla fine del 2023. Grazie a tutti.